C'è un'altra strada, un altro posto, una via più breve per salire, perché la strada che abbiamo fatto prima non era proprio una delle migliori. Ma se andrà qua. Forza! Dai! Un'ora e mezzo e adesso c'è il racconto. Adesso sei malata. Sei pazza. Dai! Questi giochini, dai! Dai, non lo vogliono giocare adesso. Dai, non lo vogliono. Ai Ai Grazie a tutti. 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 11, 17, 11, 7, 11. Grazie a tutti.